Daniela Lafusa, candidata per il territorio alle regionali di Regione Lombardia domenica prossima, 12 e 13 febbraio. Daniela ci siamo, manca una settimana, la tua sensazione? È una sensazione molto positiva perché abbiamo ricominciato finalmente a parlare con il nostro territorio dopo aver dovuto parlare soltanto di emergenza per quasi tre anni, quindi siamo tornati ad essere la Lega che eravamo senza l'emergenza che ci ha portato il Covid e quindi la gente ricomincia ad avvicinarsi al nostro partito, a parlare con noi, a parlare di problemi del territorio, di problemi della gente, perché le persone sanno che la Lega è un partito vicino alla gente, sempre tra la gente, ma sono anche molto ottimista per le votazioni del 12 e del 13 febbraio. Questa sera ci hai portato un video, siamo in attesa di Matteo Sanchino. Sono molto contenta dell'arrivo di Matteo Salvini, è un grande onore averlo qui a sostenere la mia candidatura. Io sono una leghista salviniana convinta, quindi per me è una gioia immensa tra pochi minuti vederlo e vederlo accanto a me in questa avventura.